Questa femmina è ansiosa di tornare al proprio nido. Maia saura significa buona madre. Come le altre femmine, questa ha nidificato in una enorme colonia. Tuttavia, per raggiungere il suo nido, deve superare alcune madri iperprotettive. Nell'evitarne una, si avvicina troppo a un'altra. Finalmente, giunge a destinazione. Nutre i suoi piccoli come farebbe un uccello. Li terrà al sicuro per molti mesi.